Si sono truccati e mascherati ispirandosi a personaggi horror dei film e dei fumetti e si sono esibiti sul palco mostrando la loro grinta. Oggi a Mirabilandia centinaia di aspiranti comparse si sono presentati al casting per la festa di Halloween organizzata dal parco. Anche quest'anno c'è stata una risposta molto positiva e i casting che stiamo effettuando proprio in questo momento hanno registrato un numero di partecipanti molto elevato, quasi 500 persone che si sono registrate. Questo ci aiuterà a selezionare gli zombie più spaventosi per il nostro Halloween. Come si sta organizzando il parco per le serate di Halloween? Partiremo l'8 di ottobre con il nostro parco tematizzato stile Halloween e dal 15 di ottobre, oltre all'Halloween Fan, quello più per famiglie che inizierà appunto dall'8, inizierà l'Halloween Horror Festival per cui dalle 18 in poi un'orda di zombie interrerà in determinate aree del parco per spaventare i malcapitati visitatori. C'è una grande novità rispetto agli anni precedenti, quest'anno che è un nuovo tunnel, si chiamerà Malabolgia. Il nome non è casuale, è un riferimento all'inferno di Dante e abbiamo voluto creare un legame con le città di Ravenna proprio andando a costruire insieme una nuova attrazione al parco di Mirabilandia Grazie a tutti.